Non c'è alcuna voglia di polemizzare tra i cittadini di Tolve dopo che Nicola Becce, ex consigliere comunale di Potenza, su Facebook ha definito uno spettacolo desolante e triste la presenza del consigliere regionale Aurelio Pace, che durante il corteo religioso di San Rocco ha portato a spalla la statua del santo, assieme al sindaco Pasquale Pepe. Se realmente servisse alla propria redenzione, sì. Sì, va bene. No, non credo che ci sia nulla di male. Ma secondo me è una cosa normalissima, anzi una cosa buona, positiva, una buona impressione. Per i tolvesi non si tratta di un fatto nuovo. Io penso che un consigliere regionale possa, ma non solo perché è consigliere, anche perché è un devoto e quindi è stato sempre presente a Tolve, alla processione, quindi ragione per cui può fare quello che crede opportuno fare, quindi senza nessun problema. Per Pace si è trattato di un atto di devozione, per Becce invece è una pagliacciata e un esibizionismo che si doveva evitare sulla vicenda. E' intervenuto anche lo stesso sindaco di Tolve. Il fatto che il consigliere Pace l'altro giorno abbia preso insieme a me la Stato è stato del tutto casuale, ma tutti sanno che anche lui è un fedele di San Rocco, ha sempre preso parte. Per cui la polemica, secondo quanto mi riguarda, dovrebbe morire sul nascere e sono straconvinto che i cittadini di Tolve sono tutti dalla nostra parte, in quanto hanno apprezzato questo gesto che è stato ripreso dopo cinque anni di sospensione. Quindi io continuerò a portare la Stato perché è un mio orgoglio e perché è un orgoglio della mia comunità.